ha tanta schiuma colorata, quasi come da un bagno di schiuma, morbido, allora io mi ci vedo, non so se riuscirei a resistere alla tentazione con una bella cannuccia di risucchiarmela tutta sta birra, però l'idea di farmi sull'eticare dalle bollicine, Luca ti dico la verità, non mi dispiacerebbe, ci comincio a pensare, mi sa che approfondisco, cerco l'indirizzo di questa beer spa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Luca dice ma è proprio uno spreco insomma fare il bagno nella birra se ci vogliamo incontrare per berla ha detto ok ma solo berla non tuffarvi ci ci si liti vi ti dentro va bene va bene insomma dobbiamo esplorare dobbiamo esplorare nuove frontiere questo è quello che ci chiede adesso la vita ma il tempo ci chiede anche di fermarci perché sono le 17.59 amici miei oggi è volata davvero oggi Fatti e Facezzi è volata davvero siamo stati in ottima compagnia io con Francesco Ricca con voi naturalmente con Enrico Tony che si sono palesati all'inizio Luca che mi ha seguito fino a questo momento e insomma con tutti quanti voi che invece eravate all'ascolto ma non vi siete mostrati e io spero che voi siate stati bene con noi insomma e allora se questo è naturalmente potete provare a consigliare ai vostri amici perché no di connettersi il sabato pomeriggio a partire dalle 16 fino alle 18 quindi un paio d'ore di relax e di tranquillità con CRT Radio magari andando proprio sul nostro sito www.crtradio.com e lì accedete alla diretta ma accedete anche ai podcast a proposito questa puntata la puntata di quest'oggi naturalmente diventerà un podcast tra qualche minuto quindi se volete potete anche scaricarlo riascoltarlo andare semplicemente a consigliarlo ecco chiaramente la diretta è più emozionante il bello della diretta intanto amici davvero siamo alla fine un ringraziamento enorme a tutti quanti voi ma come sempre sapete noi prima di salutarci vogliamo fermarci ancora un istante e riflettere vi voglio lasciare con la solita massima del fine settimana augurandovi naturalmente una buona domenica ed una prossima buona settimana e allora facciamolo annunciare come si deve dal nostro fedelissimo Will mi sento un po' confuscio mi sento un po' confuscio eh sì in questi tempi di confucione siamo tutti un po' confuci e allora amici davvero grazie grazie per essere stati con me io come al solito chiedo di creare ambient prima naturalmente saluto l'amico Francesco Ricca che spero di ospitare quanto prima e spero di farvi ascoltare quanto prima magari chissà in un sabato quindi voi connettetevi il sabato pomeriggio alle 16 qui su CRT Radio e magari ci farà una sorpresa l'amico Fricca va bene allora giù la musica come si fa in questi momenti perché questo è il momento dedicato alla riflessione e allora a chi non vuol credere poco valgono mille testimoni meditiamo gente meditiamo Sampi lumi ma che pena mi fa scherzati infiottiti come olive a scolare spiedini di carne infila sulle autostrade saldare il cavello tanto per ringraziare pensarsi arrivati dopo un weekend chiedo venia trovo un po' esagerato pagare tre volte un litro di benzina sentirsi ridire con sorrisi di rame che sono costretti dal mercato dei cambi mandati a cagare voi le vostre bugie credo di notare una leggera persona nel senso speciale la versione scostante che non aspettavo cadere sull'uomo così divertente in geno da credere con la favola di Adamo ed Eva 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 e 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 dico quel che penso e faccio quello che dico l'azione importante siamo uomini troppo distratti da cose riguardano vite e fantasmi futuri nel futuro è toccare mangiare che si rimbalarsi l'amore credo di notare una leggera persona nel senso sociale la versione scostante che non aspettavo cadere su un uomo così divertente e non credere ancora ma favola di Adamo ed Eva 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 Favora di Adamo e Deva Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Manutenzione industriale e studio e progettazione di macchinari industriali. E allora prendete carta e penna perché Monzi One è a Volturara Erpina, alla via Vallicella. Per info e contatti chiamalo 0825 984 732 oppure il 340 820 2205 o ancora scrivi una mail a monzi-one-libero.it. FF Costruzioni SRL opera dal 1994 nel settore dell'edilizia. Azienda specializzata nella realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di edifici civili, commerciali ed industriali. Dallo scavo alle finiture e una esecuzione dei lavori precisa per un risultato capace di realizzare tutti i vostri sogni. Soluzioni chiavi in mano e rispetto per l'ambiente li trovi da FF Costruzioni SRL a Montella, alla Contrada Baruso. Per info e contatti chiamalo 0827 205 019 oppure scrivi a infochiocciola ffcostruzioni srl.com Grazie a tutti.